Concerto all'improvviso e a sorpresa del grande Biagio Antonacci che ha voluto pubblicare anche un post di questo bellissimo evento, di questa magnetica sorpresa che ha voluto, diciamo così, riservare attraverso l'uso di Instagram è stato un momento pienamente straordinario, o meglio diventato virale sul web grazie alla ripresa di questo evento, di questo concerto improvviso e improvvisato in piazza ripreso da telecamera o da smartphone Precisamente nell'isola di Vettotene, in provincia di Radina il famoso cantante italiano per eccellenza è riuscito a stupire tutti suonando e cantando Sognami anche in versione francese Biagio in piena e simpatica sinergia si è dato da fare riuscendo a strappare e a erargire piene emozioni in tutti quelli che hanno potuto viverle dal profondo il video è diventato virale di piano di nuovo, ha fatto letteralmente impazzire tutti e i biaggini, ossia i fan di Biagio Antonacci sono rimasti tutti estasiati dalla bravura di questo cantante che non passa mai in osservata, non passa mai in secondo piano e al tempo stesso sono rimasti pienamente felici e gaudenti nell'ascoltare la bravura e la capacità di cantare di questo straordinario cantante italiano e il video termina qua, complimenti dunque al grande Biagio Antonacci che nell'isola di Vettotene, in provincia di Radina, si è dato da fare regalando emozioni forti e indescrivibili in tutti, nessuno escluso iscrivetevi, commentate, ciao dal vostro Leandro, narratore italiano